Musica Ragazzi oggi siamo tutti quanti pronti per andare a scuola perchè oggi devo accompagnare loro due a scuola perchè di solito la mattina quando vanno a scuola li accompagna mio marito però oggi mio marito siccome doveva andare al lavoro ancora più presto del solito li devo accompagnare io Ma prima devo salutare dieci di voi Inizio con Marta, poi Fabio Banzi, Maya Lupica, Matilde Brundo, Aurora, Gaia Perrella, Cecilia, Valentina.v, Gaia Onde, Sofia o Keren Quindi un grandissimo bacione ragazze Davvero vi voglio un sacco bene Grazie mille per i 13.100 iscritti Davvero ragazzi io non so letteralmente come ringraziarvi Cioè non so che cosa fare per ringraziarvi Però vi dico solo che a 15.000 iscritti ci saranno un sacco di speciali Quindi ragazzi muovetevi Detto questo siccome sta diventando tardi Andatevi a fare gli zaini Anche se Vero dovete fare la sera gli zaini Lo so mamma Vabbè andiamo Eccoci forse andiamo Andiamoci a fare lo zaino Tu mettici quello che ti pare Tanto Sere elementari non ti fanno fare niente Io mi ci devo mettere un sacco di libri Dunque Allora io adesso vediamo quello che ci posso mettere Allora io prendo il mio zaino Bellissimo Lo apro Ecco qui Incominciamo Astuccio per i evidenziatori E l'ho messo Astuccio per le venn Mettiamo I raccoglitori Quindi oggi mi serve solamente questo qua Azzurro stranamente E poi i libri Uno Due Perfetto Detto questo ho fatto Tu hai fatto? No non so quello che ci devo mettere Dammi te lo sistemo io Allora mettiamo Questi libri Quaderni in realtà sono Perché non è che sia qualcosa Poi ci metti qualche giochino Tanto pe Così e basta Poi dopo andiamo a fare Andiamo a mettere la merenda di sotto Ok andiamo Guarda se è normale che gli devo anche fare lo zaino Cioè Oggi è il giorno della merenda sana Perché loro fanno un giorno merenda un pochettino E un giorno merenda sana Ieri hanno fatto merenda con il panino E Christian con Le brioche Oggi merenda sana Mele E succo di frutta Oggi sarà il giorno della merenda sana Uffa Ecco come l'ho detto Merenda sana Vabbè Vabbè Comunque mamma ti avviso che Io ho fatto lo zaino anche a Christian Ti sembra normale? Sei sua sorella più grande Può capitare che magari glielo poi Potresti aiutarlo a farglielo tuo Ancora è piccolo Vabbè andiamo Ok Andiamo Tu il telefono te lo sei preso? No Te lo devi portare Metti il caldo di sentimare Mi devi chiamare Come mi chiami? Non ce l'avevo pensato Eh Andiamo Ok tesoro Ecco c'è arrivati Questa è la tua classe Puoi entrare? No mamma Come no? Non me la sento Ma che vuol dire? Dai forza entra Questo è il tuo armadietto Dai prendi un libro e vai Dai entra Ciao Salve Oh ciao Tu sei la ragazza nuova no? Ehm Sì Prego Io sono l'insegnante di lettere Oh Senza neanche farla apposta Ho preso il libro di italiano Vieni Seguimi Allora ragazzi Lei è la vostra nuova compagna Si è iscritta Proprio ieri in questa scuola Perché Perché? Beh perché io nella mia vecchia scuola Non mi trovavo bene Quindi mi sono cambiata E mi sono iscritta qui Va bene Quello è il tuo banco L'avevamo lasciato libero apposta per te E questa è la tua classe Ragazzi presentatevi Forza su Vabbè te li presento io Lui è Marco Il più diciamo bravo della classe Il più tranquillo Lei è Barbara Lui è Lui è Marcus Per fortuna non si chiama Marcus E non Marco Perché se non avremmo confuso Lei è Lucia E lei è la più Introversa della classe Che si chiama E la vuoi dire tu? Mhm Io mi chiamo Christel Piacere Perfetto Allora tesoro Vatti ad accomodare Ehm Ok Ritornando alla lezione Ragazzi Dunque Pss Ehm Sei davvero carina Ti va se dopo lezione Ti facciamo una passeggiata Ti faccio vedere la scuola Ok Va bene Ragazzi silenzio Per favore Ok Adesso siete liberi Enrique lezione Ehm Va bene prof Arrivederci Mamma Ehm Sei stata un'ora qui Vattene subito I miei compagni Prima che ti vedono Mhm Va bene vado Comunque è carino Quel ragazzo Marcus Shhh Mamma siamo qui Cioè sono qui Da solo neanche un giorno Poi ci pensiamo Mhm Io vado Mia madre è sempre mia madre Oh scusa devo posare le cose nel mio armadietto Mhm Tranquillo Ehm 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 Scusa Mi avevi detto che ci dovevamo fare un giro Per la scuola A Ehm Sì Mhm Comunque piacere Marcus Piacere Beatrice Ma già la professoressa mi aveva presentato E tu ti hai ripresentato Vabbè comunque Mhm Giusto Mhm Vabbè Ehm Sei un tontino bassa Dobbiamo fare il giro della scuola Dobbiamo stare A fare La gara Di chi è più alto E chi è più basso Carino Ragazzo Mhm Allora Beh questa è l'aula L'hai già vista Queste sono la parte Dei Degli armadietti Siamo anche vicini di armadietti Poi qui c'è la segreteria Con una panchina Dove facciamo tipo Regrezioni In questo spazio qui Quello è il posto Della ragazza strana Della scuola Si si mette sempre lì su Non mi chiedere come faccio Ad arrivarci E questi sono i bagni Queste per le femmine E queste per i maschi Ehm Perché ti sei chiuso dentro? Mhm Sei strano C'è anche il lavandino Per le femmine E per i maschi? No no Quelli puoi fare Ok Ehm Beh Detto questo Il tour della scuola è finito No? Posso andare a dire Beh Se vuoi Puoi andare Ok Ciao Ciao Uè Oh madonna Perché questo Mi sta attestando la vita? Ora li metto pure io Quassù E imito la ragazza Strana Della scuola Ehi Un'altra ragazza Estroversa Estroversa Introversa Scusa Non sono introversa Semplicemente Non lo so Cos'è quel Mh mh Cioè Mh mh Insomma Ancora devo fare Amicizia Beh Se stai là sopra Di sicuro Non fai amicizia Vieni qui E incomincia a parlare Se no al massimo Farai amicizia Con il condizionatore Per una volta Credo che tu abbia ragione Eh Probabile Ciao ragazzi Come va? Ehi Ciao Ehm Polletto Bassaleali Marcus Tranquilla Fa sempre così Che fate? Nulla Ci stiamo annoiando In realtà Sì Ma voi siete sorelle? Mh mh Avete esattamente Lo stesso colore Di capelli Sì Siamo sorelle Però Non abbiamo proprio Un grandissimo rapporto Ma Andiamo così Mh mh Bene Ehm Ma La ragazza È fatta così Anche lei È un poco Strana Ecco Ok Ho capito Credo che siano Riniziate le lezioni Dovremmo andare Beh Sì Probabile Andiamo Salve Io sono la vostra Integnante di matematica Ehm Salve Professoressa Uh 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 Ma tu chi sei? Ehm Io sono Beatrice Piacere Ehm Sono la ragazzina Nuova Bene Interessante Come te la cavi Con la matematica? Ehm In alcune cose Ho leggermente Difficoltà Bene Come immaginavo Allora Viene la lavagna Ehm Viene la lavagna Ok Ok Eccolo Allora Dunque Su cosa ti posso interrogare? Vediamo Vabbè Già l'interrogazione È stata Abbastanza Lunga E Abbastanza Tragica Il tuo voto È Sei meno Ma Gli ho fatto Un sacco di Mi ho fatto Un sacco di domande Alcune anche Fuori programma Io faccio Domanda Anche Della terza media Se voglio Va bene Ok Vabbè Io vado a posto Mi piace Tu zitto Marcus Prima che interrogo Anche te Mi scusi Professoressa Dopo questa interrogazione È veramente Tragica Un disastro Cos'è da Contrabattere? Non ho niente Si figuri Guardi Fuori Ecco Perfetto Già incominciamo Benissimo Ma non La sembra Che la sta Accogliendo Un pochettino Male No Io accolgo Le persone Come voglio Vai fuori Anche tu Allora Già Si è fatta La fidanzatina Non è la mia Fidanzata E poi Anche se lo fossi Qual è il problema? Ehi Che c'è? Perché adesso Ti devi arrabbiare Anche con me? Non sono arrabbiata Con nessuno Si vede Dimmi Beh Mi ha buttato fuori Anche a me Per quale motivo? Perché Ti ho difeso Ti ho difeso? Da quando Qualcuno Si preoccupa Di difendermi Da quando Sei in questa scuola E mi fai Particolarmente Simpatia Già Proprio così Va bene Marcus Ok Dopo Cinque minuti Di silenzio Imbarazzante Ok Ragazzi Forza Entrate Oh Gesù Va bene Stiamo arrivando Meglio per voi Questa ragazzina Non mi fa Per niente Simpatia Professoressa Ma è brava Shut up Ora magicamente Diventata anche inglese Come scusi? No No Niente Vabbè Dai Andiamo Si Ci conviene Come è andata La vostra Chiacchierata? Molto bene Professoressa Per oggi Le lezioni Sono finite Potete andare A casa Grazie Mille Ragazzi Oggi Proprio Davvero Orrendo L'unica Cosa Di Decente Sono i compagni E Marcus E' carino Abbastanza Però No Devo essere Rigida Ehi Rieccoti Fidati che non ti libererai Così Facilmente di me Ah Di questa cosa Non posso essere contenta O essere triste Sei contenta Lo so che ti piace Avermi attorno Può darsi Non del tutto sicuro Ma può darsi Ah Comunque è arrivata La prof Di ripetizioni La Corso Dopo scuola Ma Io sto andando a casa Non mi va di Seguire altre lezioni Ripassi Eccetera Sì Anche io adesso Aspetto mia mamma E vado a casa Ok Vabbè Aspetto che ti vieni A prendere tua mamma Allora ti faccio compagnia Ok grazie Uhuh Guarda quei ragazzini Io lo sapevo Oggi Non è andata Il massimo Per te Come primo giorno Immagino Sì Non è stato proprio Spettacolare Però Almeno i compagni Sono carini E la prof Di lettere Anche Sì La prof Di lettere È bravissima Mamma Ma che ci fai lì No niente Sono appena arrivata Ok Ciao Salve signora Piacere Marcus Piacere Mio Asia Ok mamma Andiamo Tesoro Come è andata La professoressa Di lettere È molto brava I compagni Belli Decenti Ma la prof Di matematica Proprio no Mi ha interrogato Mi ha messo un 6 meno Nonostante mi ha fatto Un sacco di domande Ho risposto correttamente A tutte Detto da lei Che ho risposto correttamente Però proprio Mi faccio antipatica Mi ha anche sbattuto fuori E Marcus Per difendermi Ha sbattuto fuori Anche lui No Mi dispiace Tesoro Vabbè Sicuramente Vedrai Che si sistemerà Comunque Apprezzo molto Il gesto Che ho fatto Nei confronti Di mia figlia Oh Di nulla Mi fa particolarmente Simpatia Che carino Mamma Andiamo a casa Io Ho particolarmente fame Ok Ciao Marcus Ciao Marcus Ciao Sì Nel tornare a casa Siamo passati Anche da scuola Di Christian E l'abbiamo preso Va bene Mamma Io sto andando in camera Devo sistemare Alcune cose Va bene Tesoro Vado Allora Parliamoci Chiaro Perché È inutilissimo Mentire Non so Se Quel Ragazzo Mi piace O no Io Sinceramente Non mi va Di fare Poi subito Quelle scene Deati Di presente Il mio fidanzato Mamma Guarda Che bel fidanzato Che ho No Perché Ho Solo 12 anni Sono In Seconda Media E Non mi va Chi è Che mi Vande Il messaggio Ehi Ciao Bea Sono Marcus Come ha Fatto Ad avere Il mio Numero No 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 Questa Cosa Infatti Ci dobbiamo Subito Vedere Io E lui Vediamo Il Ciapparco Alle Tre Come Finirà La Storia Per Vederlo Andate La Parte Due Ciao Ciao